voglio farvi vedere questo bellissimo panorama siamo a teglio siamo nell'ora del tramonto questa è la bellissima torre siamo proprio sotto qui c'è una porticina e guardate che bellissimo panorama che c'è il monte la vazza e la c'è la prica dietro dietro questa montagna leggermente rotonda c'è il passo della prica la val belviso guardate che bella questa chiesetta sta per tramontare il sole questo questo è teglio qui c'è questo dosso siamo naturalmente in valtellina e il panorama è assolutamente meraviglioso bello noi andiamo sempre alla prica ma siamo praticamente di fronte non siamo quasi mai stati qui a teglio ma effettivamente è una passeggiata sicuramente da da fare che consiglio bellissimo